Il fatto di avere i denti in bocca è qualcosa che mi ero dimenticato, ci si riabitua a una vita normale, anche il fatto di sorridere e di rivedersi allo specchio. Psicologicamente si sente molto meglio. Mi chiamo Andrea Mendola e vengo da Bologna. Da vari anni soffrivo di problemi ai denti, probabilmente per dei problemi anche legati allo stress, improvvisamente i miei denti hanno iniziato a cariarsi all'interno. A un certo punto sono andato anche a fare delle visite in altre cliniche, in altri paesi dell'Europa. Ho accettato di fare questa cosa qua perché mi sono sentito molto a mio agio. Anche il lato psicologico in queste cose va rispettato perché comunque sento un intervento che si subisce. L'operazione non è stata dolorosa, non ho avuto problemi. Far passare i vari mesi e venire qua per la protesi fissa. Tutto lo staff della clinica è sempre stato molto gentile e carino. Sono venuti a prendermi in aeroporto, ho mandato la stanza in un albergo. Le visite sempre ben programmate, quindi non ci si trovava in uno stanzone dove mi è capitato invece in altre situazioni di vedere, uno o due alla volta ad aspettare il proprio turno di visita e in uno stanzone con centinaia di persone accalcate. I medici sono stati molto bravi, sempre. Anche il personale paramedico si è sempre sempre stato perfetto. Si sta benissimo in Albania, vorrei rimanere qua a questo diplo. Si sta molto bene. È un popolo molto molto accogliente, sono tutti molto gentili. Ci sono un sacco di manifestazioni musicali e di intrattenimento, cosa che in Italia non vedo tanto. Si mangia bene, si può girare tranquillamente per le strade anche di sera sicuri. È una città viva, ci sono bar sempre pieni, ristoranti pieni, quindi mette allegria anche solo girare per la strada, tantissimi negozi. Si sta benissimo, mi piace un sacco.